Amici dello sportello del cittadino, ci troviamo in via Caduti di Nassiria per capirci alle spalle dell'Istituto Pacinotti e vogliamo mostrarvi l'ennesimo scempio che subisce questa città. Vedete alle mie spalle un'area che è di pertinenza comunale, di proprietà comunale, sulla quale poi insiste tutto un contenzioso, ma non vogliamo impelagarci in questa vexata questio. Ciò che vogliamo affrontare è la problematica relativa a una violenza perpetrata, perché di questo si tratta l'abbattimento selvaggio di cinque alberi nella zona compresa tra i civici 9 e 19 di via Caduti di Nassiria. Ci domandiamo questi pini a chi dessero fastidio, ci domandiamo per quale motivo sono stati abbattuti e vorremmo comprendere meglio le ragioni per le quali la Direzione Ambiente, Salute e Qualità della Vita ha indetto la procedura di affidamento in economia mediante prezzo più basso del servizio di abbattimento alberi sul territorio di competenza comunale. Vi ho letto appunto lo stralcio della determina e a questo punto noi ci domandiamo veramente se in questo modo a Taranto si vuole salvaguardare il verde pubblico. È l'ennesimo scempio, l'ennesimo caso di abbattimento violento e ingiustificato di alberi alla faccia della città che vuole essere ecocompatibile, che vuole creare il verde in contrapposizione alle ciminiere dell'Ilva. Chiederemo notizie precise al Sindaco e ai dirigenti competenti per il settore submenzionato.